le utopie appaiono oggi assai più realizzabili di quanto non si credesse un tempo e noi ci troviamo attualmente davanti ad una questione ben più angosciosa come evitare la loro realizzazione definitiva le utopie sono realizzabili la vita marcia verso le utopie e forse un secolo nuovo comincia un secolo nel quale gli intellettuali e la classe colta penseranno ai mezzi di evitare le utopie e di ritornare a una società non utopistica meno perfetta e più libera un edificio grigio e pesante di soli 34 piani sopra l'entrata principale le parole centro di incubazione e di condizionamento di londra centrale è uno stemma il motto dello stato mondiale comunità identità stabilità l'enorme stanza il pian terreno era avvolta verso il nord fredda nonostante l'estate che svolgorava al di là dei vetri nonostante il caldo tropicale della stanza stessa la luce fredda e sottile entrava dalle finestre cercando avidamente qualche manichino drappeggiato qualche palida forma di mummia accademica ma trovando solamente il vetro le nichelature e lo squalido splendore di porcellana di un laboratorio gelo rispondeva a gelo i camici dei lavoratori erano bianchi le loro mani erano protette da guanti di gomma di un pallore cadaverico la luce era gelida morta fantomatica solo dai gialli cilindri dei microscopi essa prendeva prestito un po di sostanza calda e vivente spalmandola come del burro su lucidi tubi striando con una lunga successione di strisce luminosi tavoli di lavoro e questa disse il direttore aprendo la porta è la sala di fecondazione nel momento in cui il direttore del centro di incubazione di condizionatura entrò nella stanza 300 fecondatori stavano chini sui loro strumenti silenziosi e quasi trattenendo il respiro qualcuno cantarellando e fischiettando modo cosciente di manifestare travolta la più profonda concentrazione un gruppo di studenti arrivati da poco molto giovani rosei e imberbi seguivano i passi del direttore con una certa apprezzione quasi con umiltà ciascuno di essi teneva un tacquino su cui scarabocchiava disperatamente ogni qual volta il uomo apriva bocca attingevano direttamente alla fonte privilegio raro il direttore di londra centrale aveva sempre a cura di condurre il giro personalmente per i vari reparti di studenti nuovi semplicemente per darvi un'idea generale era solito dir loro perché un'idea generale doveva pure averla per compiere il loro lavoro intelligentemente e tuttavia era meglio che ne avessero il meno possibile se dovevano riuscire più tardi buoni e felici membri della società perché come tutti sanno i particolari portano la virtù e alla felicità mentre la generalità sono dal punto di vista intellettuale dei mali inevitabili non i filosofi ma i taglialegna e i collezionisti di francobolli compongono l'ossatura della società domani e gli aggiungeva con una bonomia sorridente ma livemente minacciosa vi metterete a lavorare sul serio non andrete da gingillarvi con le generalità nel frattempo nel frattempo altro detto memorabile via dalla bocca il libretto di note i ragazzi scarabocchiavano come pazzi alto e piuttosto magro ma dritto il direttore s'avanzò nella stanza e gli aveva il mento lungo i denti forti e alquanto sporgenti coperti a malapena e quando non parlava dalle labbra piene e floridamente curve vecchio giovane 30 anni 50 55 era difficile dire in ogni modo era una domanda che non ci si poneva in quest'anno di stabilità non veniva in mente nessuno di formularla comincerò dal principio disse il direttore e gli studenti più zelanti annotarono la sua intenzione nei tacquini cominciare dal principio e questi ne agitò la mano sono gli incubatori e aprendo una porta isolante mostro loro file su file di provetti numerate la provvista settimanale d'ovoli mantenuti spiegò alla temperatura del sangue mentre i gameti maschili e cui aprì un'altra porta devono essere mantenuti a 35 gradi invece di 37 la piena temperatura del sangue li sterilizza gli arieti avvolti nel termogene non generano agnelli ancora appoggiato agli incubatori fornì agli studenti una breve descrizione del processo moderno della fecondazione mentre le matite volavano vertiginosamente sulle pagine parlò in primo luogo naturalmente della sua base chirurgica l'operazione volontariamente subita per il bene della società senza contare che essa porta con sé un premio ammontante a sei mesi di stipendio continuò con un sommario esposto sulla tecnica della conservazione dell'ovaia estirpata lo stato vivente in pieno sviluppo passò a fare delle considerazioni sulla temperatura ideale la salinità e la viscosità accenno al liquido nel quale si conservavano gli uovoli separati e giunti a maturazione e condotti di scepoli e tavoli di lavoro mostrò loro praticamente come questo liquido veniva levato dalle provette come lo si faceva cadere goccia a goccia sui vetrini appositamente intiepiditi dalle preparazioni microscopiche come gli uovoli in esso contenuti venivano esaminati dal punto di vista dei caratteri anormali contati e trasferiti in un recipiente boroso come e li condusse a vedere l'operazione questo recipiente veniva immerso in un liquido caldo contenente degli spermatozoi liberamente nuotanti alla concentrazione minima di 100.000 per centimetro cubo e gli insistette e come dopo dieci minuti il recipiente era levato dal liquido e il suo contenuto lo esaminato come se qualche uovo non fosse stato fecondato esso veniva immerso di nuovo e se necessario un'altra volta ancora come le uova fecondate tornavano agli incubatori dove gli alfa e i beta rimanevano fino al momento di essere definitivamente messi nei flaconi mentre i gamma e delta e gli epsilon ne venivano tolti dopo solo 36 ore per subire il processo di Bocanowski il processo Bocanowski ripete il direttore e gli studenti sottolinearono queste parole nei loro taccuini un uovo un embrione un adulto normalità ma un uomo Bocanowski germoglia prolifica si scinde da 8 a 96 germogli e ogni germoglio diventerà un embrione perfetto e ogni embrione un adulto completo far crescere 96 esseri umani dove prima ne cresceva uno solo ecco il progresso nella sua essenza concluse il direttore il processo di Bocanowski ficazione consiste in una serie di arresti dello sviluppo noi arrestiamo lo sviluppo normale e benché possa sembrare un paradosso l'uovo reagisce germogliando le matite si diedero da fare alzo la mano su di un nastro in lento movimento una specie di rastrelliera carica di provette stava entrando in una grande cassa metallica mentre l'altra ne usciva si sentiva un leggero ronzio di macchine le provette impiegavano otto minuti per attraversare la cassa e gli spiegò otto minuti di raggi x non attenuati costituiscono infatti quasi il limite estremo di resistenza per l'uovo un piccolo numero ne moriva altre uova le meno sensibili si scindevano in due la maggior parte metteva otto germogli qualcuno otto tutte poi tornavano agli incubatori dove i germogli cominciavano a svilupparsi quindi dopo due giorni venivano sottoposte al freddo al freddo e all'arresto dello sviluppo a loro volta i germogli producevano 24 8 germogli e dopo aver così germogliato venivano trattati con una dose di alcol quasi sufficientemente ad ucciderli in conseguenza gli germogliavano ancora e avendo prodotto questi ultimi germogli germogli dei germogli dei germogli essendo ogni ulteriore arresto generamente fatale li si lasciava sviluppare in pace in quel momento l'uovo primitivo era sulla buona strada per trasformarsi in numero variabili di embrioni compresi tra 8 e 96 un prodigio miglioramento rispetto alla natura ammettrete dei gemelli identici ma non in miseri gruppi di due o tre per volta come negli antichi tempi viipari quando talvolta un uovo poteva acceleratamente scindersi ma proprio a dozzine a ventine per volta a ventine ripete il direttore allargò la braccia come se stesse distribuendone con abbondanza a ventine ma uno degli studenti fu abbastanza sciocco da chiedergli in che cosa consisteva il vantaggio ma caro il mio ragazzo il direttore si voltò rapidamente verso di lui non vedete non vedete alzò la mano la sua espressione era solenne il processo bocanowski è uno dei maggiori strumenti della stabilità sociale maggiori strumenti della stabilità sociale uomini e donne tipificati a infornare uniforme tutto il personale di un piccolo stabilimento costituito dal prodotto di un unico uomo bacano fisicato 96 gemelli identici che lavorano 96 macchine identiche la voce era quasi vibrante ed entusiasmo e adesso si sa veramente dove si va per la prima volta nella storia citò il motto planetario comunità identità stabilità grandi parole se potessimo boconafsificare all'infinito l'intero problema sarebbe risolto risolto per mezzo di individui cammatificati di delta invariabili di epsilon uniformi milioni di gemelli identici il principio della produzione di massa applicato finalmente alla biologia ma ahimè il direttore scosso il capo noi non possiamo bocalofsificare all'infinito 96 sembrano essere il limite 75 una buona media fabbricare il maggior numero possibile di gemelli identici con la medesima ovaia e coi gameti dello stesso maschio questo era quanto di meglio e purtroppo meglio di gran lunga inferiore all'ottimo si potesse fare dal resto era già difficile riuscire a questo infatti natura ci vogliono 36 anni perché 200 ovoli giungano a maturazione ma il nostro scopo è di stabilizzare la popolazione adesso in questo preciso momento produrre dei gemelli col contagocce durante un quarto di secolo a che servirebbe evidentemente a nulla ma la tecnica di posnap aveva enormemente accelerato il processo di maturazione si poteva contare sull'aumento di 150 volte un uovo fecondare bocalofsificare cioè in altre parole moltiplicare per 72 ottenere una media di quasi 11.000 fratelli e sorelle in 150 gruppi di gemelli identici tutti nello spazio di due anni ma in casi eccezionali possiamo ottenere oltre 15.000 individui adulti da una ovaia sola facendo cenno ad un giovane biondo rubicondo che passava in quel momento gridò signor foster il giovane rubicondo si avvicinò potreste indicarci la cifra massima di una singola ovaia signor foster 16.000 12 in questo centro rispose foster senza esitazione parlava rapidamente aveva due occhi azzurri vivaci e provava un evidente piacere nel citare numeri e dati 16.000 e 12 in 189 gruppi di individui identici naturalmente però continuò tutto ad un fiato si sono ottenuti dei risultati molto migliori in qualcuno dei centri tropicali singapore ne ha spesso prodotto più di 16.500 e mombasa è riuscita perfino a raggiungere i 17.000 ma laggiù hanno delle condizioni ingiustamente vantaggiose dovreste vedere come risponde alla pitutaria un'ovaia di negra è sorprendente quanto si abitui a lavorare su materiale europeo tuttavia che gli aggiunse ridendo ma aveva una luce energica negli occhi e il mento gli si era levato come per sfida tuttavia abbiamo l'intenzione di batterli se possiamo sto lavorando in questo momento su di una vaia di delta minus meravigliosa ha soltanto 18 mesi ed ho già ottenuto oltre 12.700 bambini fra quelli già travasati e quelli ancora in embrione ed è ancora in piena forza e riusciremo a batterli questo è lo spirito che piace a me esclamò il direttore e batte sulla spalla di foster venite con noi e concedete a questi ragazzi il beneficio della vostra esperienza specializzata foster sorrise modestamente volentieri si avviarono nella sala di imbottigliamento tutto era agitazione armoniosa e attività ordinata strisce di peritoneo di scrofa fresco già tagliate delle dimensioni volute salivano in piccoli montacarichi dal deposito degli organi situato nel sottosuolo un brusio e poi clic si spalancavano gli sportelli di montacarichi l'addetto non aveva che da allungare la mano prendere la striscia introdurla nel flacone distenderla e prima che il flacone foderato di peritoneo avesse il tempo di allontanarsi di molto sul nastro in movimento altro brusio e clic una nuova striscia di peritoneo era salita dalle profondità dell'edificio per essere introdotta in un altro flacone seguente nella interminabile processione sul nastro vicino ai foderatori stavano i matricolatori la processione avanzava una per una le uova erano trasferite dalle provette ai recipienti più grandi la fodera peritoneale era abilmente aperta la murola collocata al suo posto la soluzione salina versata dentro e già il flacone era passato e veniva il turno delle etichette discendenza data di fecondazione appartenenza a un gruppo wakanovski tutte le indicazioni venivano trasferite dalla provetta al flacone non più anonima ma fornita di nome e di dati di identificazione la processione avanzava lentamente e attraverso un'apertura della parete entrava lentamente nella sala di predestinazione sociale 88 metri cubi di etichette disse foster soddisfatto mentre entravano contenenti tutte le informazioni utili aggiunse il settore aggiornate ogni mattina e coordinate ogni pomeriggio sulla cui base vengono fatti i calcoli necessari individui tanti della qualità tale disse foster distribuiti in quantità tanto e tanto la percentuale ottima di travasamento in qualsiasi momento stabilito le perdite impreviste sono compensate immediatamente immediatamente ripete foster se sapete quante ore straordinario ho dovuto fare dopo l'ultimo terremoto giapponese rise voleramente scosse la testa i predestinatori inviano le loro cifre ai fecondatori i quali forniscono gli embrioni richiesti e i flaconi vengono qui per essere predestinati nei minimi particolari dopodiché sono inviati giù al deposito degli embrioni dove noi ora ci abbiamo e aprendo una porta all'ottimo foster li condusse per una scala giù nel sottosuolo la temperatura era sempre tropicale man mano che scendevano entravano in una penombra sempre più densa due porte un corridoio a doppia curva proteggevano la cantina da qualsiasi possibile infiltrazione di luce gli embrioni sono come delle pellicole fotografiche disse foster mentre apriva la seconda porta sopportano soltanto la luce rossa e infatti la torrida oscurità entro cui lo seguirono gli studenti era visibile e rossa come l'oscurità degli occhi chiusi in un pomeriggio d'estate e i fianchi colmi di flaconi che si allineavano all'infinito fila soffila piano soppiano splendevano di innumerevoli rubini e fra i rubini si muovevano indistinti spettri rossi di uomini e donne dagli occhi infuocati e aventi tutti i sintomi del lupus l'aria era levemente mosso dal brusio e dallo stripitio di macchinari fornite loro un po di cifre signor foster disse il direttore che era stanco di parlare foster non desiderava di meglio 220 metri di lunghezza 200 di larghezza e 10 di altezza alzò la mano come polpastrelli nell'atto di bere i studenti levarono gli occhi verso il soffitto lontano tre piani di rastrelliere a livello del suolo prima galleria seconda galleria l'armatura era ragnatela d'acciaio galleria su galleria si perdeva in tutte le direzioni dell'oscurità lì vicino tre fantasmi rossi erano affaccendati a scaricare delle damigiane da una scala mobile era il montacariche della sala di predestinazione sociale ogni flacone poteva essere collocato sulla delle 15 rastrelliere ciascuna delle quali perché nessuno potesse accorgersene era un veicolo viaggiante alla velocità oraria di 33 centimetri e un terzo 277 giorni in ragione di 8 metri al giorno 2136 metri in tutto un giro della cantina livello del suolo un altro giro nella prima galleria mezzo nella seconda e la 276 ma mattina la luce del giorno nella sala di travasamento e dopo la cosiddetta esistenza indipendente ma in questo frattempo concluse foster si riesce a far loro molte cose o molte davvero il suo era un riso scaltro e trionfatore questo è lo spirito che mi piace disse ancora una volta il direttore facciamo il giro date loro tutte le spiegazioni caro foster foster li forniva a mano a mano parlò dell'embrione che si sviluppa sul suo letto di peritoneo fece loro assaggiare il ricco surrogato di sangue col cuore nutrito spiego perché occorreva stimolarlo con placentina e teoxina parlò dell'estratto di corpus luteum mostrò loro i beccucci dai quali in automaticamente iniettato ogni 12 metri a partire dallo zero fino al 2040 disse delle dosi sempre crescenti di liquido pituitario somministrate durante gli ultimi 96 metri del percorso descrisse la circolazione materna artificiale installata su ogni flacone a 112 metro mostrò loro il serbatoio ristrugato sanguigno la pompa centrifuga che mantiene il liquido in movimento sopra la placenta e lo spinge attraverso il promone sintetico e il filtro per le sostanze di scarto accenno alla preoccupante tendenza dell'embrione all'anemia alle enormi dosi di estratto di stomaco di maiale e di fegato di feto di cavallo di cui bisogna di conseguenza rifornirlo mostrò loro il semplice meccanismo per cui durante gli ultimi due otto metri tutti gli embrioni vengono simultaneamente scossi per familiarizzarli col movimento accennò alla gravità del cosiddetto trauma del travasamento ed enumerò le precauzioni prese per ridurre al minimo questa pericolosa scossa con uno specifico allineamento dell'embrione imbottigliato disse loro delle prove del sesso effettuato in vicinanza del duecentesimo metro spiegò il sistema di indicazione delle etichette una t per i maschi un cerchio per le femmine è un punto interrogativo nero su un fondo bianco per quelli che erano destinati a divenire neutri perché come facile capire disse foster nella grande maggioranza dei casi la fecondità è semplicemente una noia un impaccio un'ovaia feconda ogni 12.000 sarebbe ampiamente sufficiente per i nostri bisogni ma noi desideravamo avere una buona possibilità di scelta bisogna naturalmente lasciare sempre un enorme margine di sicurezza ragione per cui permettiamo che perfino il 30 per cento degli embrioni femminili si sviluppi normalmente gli altri ricevano una dose di ormone sessuale maschile ogni 24 metri durante il resto del percorso risultato quando escono delle bottiglie sono neutri assolutamente normali per struttura eccetto che dovete ammettere hanno veramente una leggera tendenza alla crescita della barba ma sterili garantiti sterili il che ci porta finalmente continuò foster fuori dal campo della più servile imitazione della natura per entrare in quello molto più interessante dell'invenzione umana si istropicciò le mani perché si capisce non si accontentavano di covare semplicemente degli embrioni qualsiasi vacca in grado di farlo noi inoltre li predestiniamo e li condizioniamo travasiamo i nostri bambini sotto forma ad essere viventi socializzati come tipi alfa e epsilon come futuri votatori di fogne o futuri stava per dire futuri governatori mondiali ma correggendosi disse invece futuri direttori di incubatori il direttore mostrò di apprezzare il complimento e rispose con un sorriso erano al 320esimo metro della rastrella era 11 un giovane meccanico beta a minus lavorava con un cacciavita una chiave inglese alla pompa del surrogato sanguigno di un flacone che stava passando il ronzio del motore elettrico abbassava gradualmente il tono a mano a mano che gli girava i bulloni giù giù un ultimo giro di chiave uno sguardo al contagiri ed ebbe finito avanzò di due passi lungo la fila e incominciò la stessa operazione sulla pompa seguente sta riducendo il numero di giri al minuto spiegò foster il surrogato circola più lentamente passa perciò attraverso i polmoni a intervalli più lunghi porta di conseguenza meno ossigeno all'embrione non c'è come la penuria di ossigeno per mantenere un embrione al di sotto della normalità si fregò ancora le mani ma perché si mantiene l'embrione al di sotto della normalità chiese uno studente ingenuo asino disse il direttore rompendo il suo lungomotismo non vi siete ancora reso conto che un embrione epsilon deve avere un ambiente epsilon oltre che un origine epsilon evidentemente quegli non se n'era preso conto rimase lì pieno di confusione più bassa è la casta e meno ossigeno si darà disse foster il primo organo a risentirne il cervello poi lo scheletro col 70 per cento dell'ossigeno normale si hanno dei nani ma a meno del 70 si ottengono dei mostri privi di occhi che sono completamente inutili concluse foster mentre invece la sua voce diventa ardente e confidenziale se si arrivasse a scoprire una tecnica per ridurre il pericolo della maturazione che trionfo che beneficio per la società considerate il cavallo per esempio che si lo considerarono maturo a sei anni l'elefante a dieci mentre a 13 anni un uomo non è ancora sessualmente maturo ed è adulto solo a vent'anni da ciò deriva naturalmente il frutto dello sviluppo ritardato l'umana intelligenza ma nel tipo epsilon disse molto giustamente foster non c'è nessun bisogno di un'umana intelligenza nome né bisogno e non se ne ottiene ma benché la mente epsilon sia matura a dieci anni il corpo epsilon non è adatto al lavoro fino ai 18 lunghi anni di superfluo è sprecata in maturità se si potesse affrettare lo sviluppo fisico fino a renderlo rapido come quello di una vacca per esempio che enorme risparmio per la comunità e gli si ingolfò di spiegazioni tecniche parlò della normale condizione dell'endocrini che fa sì che gli uomini crescano tanto lentamente a mise per spiegarla una mutazione germinale si possono distruggere gli effetti di questa mutazione germinale si può per mezzo di una tecnica adatta far tornare gli embrioni epsilon alla normalità rappresentata dai cani e dalle vacche questo era il problema e mancava poco a risolverlo pingilton a mombasa aveva prodotto degli individui che erano sessualmente maturi a quattro anni adulti a sei anni e mezzo un vero trionfo scientifico ma inutile dal punto di vista sociale degli uomini e delle donne di sei anni e mezzo erano troppo stupidi per compiere anche un lavoro da epsilon inoltre il processo era del tipo tutto per tutto e o non si riusciva a modificare nulla oppure si modificava completamente si stava ancora cercando il compromesso ideale tra gli adulti di vent'anni e quelli di sei finora senza successo foster sospirò e scosse il capo quel vagabondaggio nel crepuscolo violaceo li aveva portati nelle vicinanze del centosettantesimo metro della rastrelliera 9 da questo punto in avanti la rastrelliera 9 era coperta dalle bottiglie che coprivano il resto del loro tragitto in una specie di galleria interrotta qua e là da aperture di due o tre metri di larghezza la preparazione al calore disse foster gallerie calde si alternavano con gallerie fresche la frescura era indissolubilmente unita al disagio sotto forma di raggi x non attenuati quando giungeva il momento del travasamento gli embrioni avevano un vero orrore per il freddo erano predestinati ad emigrare ai tropici ad essere minatori e filatori di seta all'acetato e operai metallurgici più tardi ti farebbe in modo che la loro mente confermasse il giudizio del loro corpo noi li mettiamo nella condizione di star bene al caldo concluse foster e i nostri colleghi di sopra insegneranno loro ad amarlo e questo aggiunse il direttore sensazionalmente questo è il segreto della felicità e della virtù amare ciò che si deve amare ogni condizionamento mira a ciò fare in modo che la gente ami la sua inevitabile destinazione sociale in una delle aperture fra due gallerie un'infermiera stava sondando delicatamente con una lunga e sottile siringa il contenuto gelatinoso di una bottiglia che passava i studenti e le loro guide si fermarono a guardarla qualche momento in silenzio ebbene lenina disse foster quando ella ebbe ritirato la siringa e si rialzò la fanciulla si voltò di scarto si vedeva naturalmente il colore di lupus e gli occhi purpure dovuti ai riflessi dell'ambiente che era straordinariamente bella enrico il suo sorriso le scoperse un lampo rosso su una fila di denti di corallo carina carina mormorò il direttore e facendole una carezzare ne ricevette in cambio un sorriso molto deferente che cosa iniettate chiese foster assumendo di nuovo un tono molto professionale o la solita dose di tifo e di malattia del sonno i lavoratori tropicali cominciano a subire le inoculazioni al centocinquantesimo metro spiegò foster agli studenti gli embrioni hanno ancora le branchie noi immunizziamo il pesce contro le malattie dell'uomo futuro poi rivolgendosi ancora lenina disse alle 5 meno 10 sul tetto stasera come al solito molto carina fece ancora una volta il direttore e con un'ultima carezza si allontanò dietro gli altri sulla rastrella era 10 file intere della futura generazione di lavoratori chimici venivano allenate a tollerare il piombo la soda caustica il catrame il cloro il primo embrione di un gruppo di 250 meccanici di aeroplani razzo stava passando al mille centesimo metro della rastrella era 3 uno speciale meccanismo manteneva i loro recipienti in continua rotazione per migliorare il loro senso di equilibrio spiegò foster è un lavoro dedicato effettuare delle riparazioni a mezzare all'esterno di un razzo noi rallentiamo la circolazione quando sono ritti di modo che siano mezzi affamati e raddoppiamo l'afflusso di surrogato sanguigno quando stanno con la testa in giù così imparano ad associare il rovesciamento col benessere anzi non si sentono veramente felici che quando stanno con la testa in giù e ora proseguì foster vorrei mostrarvi una cosa molto interessante il condizionatore per ottenere intellettuale alfa plus ne abbiamo bel numero sulla rastrella era 5 prima galleria ridò a due ragazzi che stavano discendendo verso il pian terreno sono intorno al novecentesimo metro spiegò non si può veramente effettuare nessun condizionamento intellettuale utile prima che i feti abbiano perduto la coda seguitemi ma il direttore aveva consultato l'orologio le tre meno dieci disse non abbiamo tempo temo per gli embrioni intellettuali bisogna salire alle stanze dei bambini prima che essi abbiano finito il loro sonno pomeridiano foster rimase male almeno uno sguardo alla sala di travasamento implorò va bene disse il direttore con indulgenza soltanto uno sguardo però lasciarono foster nella sala di travasamento e il direttore e i suoi studenti entrarono nell'ascensore più vicino e furono trasportati al quinto piano reparto infantile sale di condizionamento neopavloviano annunciava il cartello il direttore aprì la porta si trovarono in una camera nuda e spaziosa molto chiara e soleggiata poiché l'intera parete esposta a sud formava un'unica finestra una mezza rozina di bambinaie vestite coi calzoni e la giacca della bianca uniforme regolarmente di tela artificiale coi capelli nascossi asetticamente sotto i berretti bianchi erano occupate a disporre dei vasi di rose in lunga fila sul pavimento grandi vasi tutti pini di fiori migliaia di petali completamente aperti e sericamente morbidi come le guanci di innumerevoli cherubini ma di cherubini che in quella splendente luce non erano esclusivamente rosei ed ariani ma anche luminosamente cinesi anche messicani anche apoplettici per il troppo soffiare nelle trombe celesti anche palidi come la morte palidi del candore e postumo del marmo le bambinaie si rigidirono sull'attenti all'apparire del direttore disponete i libri di segli brevemente e in silenzio le bambinaie obbedirono fra i vasi di rosei furono distribuiti in bel ordine i libri una fila di un quarto per l'infanzia aperti in modo invitante ciascuno su un'immagine gaiamente colorata di un quadrupede di pesce o di uccello ora portate i bambini uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote i cui quattro ripiani di rete metallica erano carichi di bambini di otto mesi tutti esattamente precisi un gruppo woganovski era chiaro e tutti poiché appartenevano alla casta delta e siti di di cachi mettetele in terra i bambini furono scaricati adesso voltate lì in modo che possono vedere i fiori e i libri appena voltati i bambini tacquero immediatamente poi cominciarono a strisciare verso quelle messe di colori brillanti quelle forme così allegre vivaci sulle pagine bianche mentre si avvicinavano il sole uscì da un momentaneo eclissi dietro una nube le rose si infiammarono come per effetto di una improvvisa passione interna un'energia nuova e profonda parve di fondersi sulle brillanti pagine dei libri dalle file dei bambini striscianti uscivano piccoli gridi di eccitazioni gorgogli e cinguetti di piacere il direttore si fregò le mani benissimo disse sembra quasi che sia stato fatto apposta i più veloci erano già giunti alla meta le manini si allungarono incerte toccarono afferrarono sfoglierono le rose trasfigurate squalcendo le pagine illustrate dei libri il direttore attese che tutti fossero allegramente occupati poi disse state bene attenti e alzando la mano diede il segnale la bambinaia in capo che stava in piedi vicino ad un quadro di comando abbassò una leva si fu una violenta esplosione acuta sempre più acuta fischiò una sirena i campanelli d'allarme squillarono disperatamente i bambini s'usultarono urlarono i loro visi erano alterati dal terrore e ora gridò il direttore poiché il rumore era assordante ora procediamo a rafforzare l'effetto della lezione mediante una leggera scossa elettrica agitò di nuovo la mano e la bambinaia in capo abbassò una seconda leva di colpo i gridi dei bambini mutarono in di tono c'era qualcosa di disperato di folle quasi degli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano i loro piccoli corpi si contraevano e si rigidivano le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento gridò il direttore a guisa di spiegazione ma basta ora e fece un cenno alla bambinaia le esplosioni cessarono le suonerie si quitarono e l'urlo delle sirene scese di tono in tono sino a smorzarsi i corpi che si agitavano e si rigidivano si distesero e ciò che era stato singhiozzo e urlo di bambini impazziti si allargò di nuovo in urla normali di terrore ordinario offrite loro ancora i fiori libri le bambinaie obbedirono ma all'avvicinarsi delle rose alla semplice vista di quelle immagini gaiamente colorate del micio del chidi chichi e la pecora che fa beh beh i bambini si ritirarono indietro terrorizzati l'intensità delle loro urla aumentò improvvisamente osservate disse il direttore trionfante osservate i libri e il fracasso i fiori e le scosse elettriche già nella mente infantile queste coppie erano unite in modo compromettente e dopo 200 ripetizioni della stessa o da altre simili lezioni sarebbero indissolubilmente fuse ciò che l'uomo ha unito la natura è impotente a separare essi cresceranno con ciò che i psicologi usavano chiamare un odio istintivo dei libri e dei fiori i loro riflessi sono inalterabilmente condizionati staranno lontano dai libri e dalla botanica per tutta la loro vita il direttore si rivolse alle bambinaie portateli via i bambini vestiti di cachi sempre urlanti furono caricati sui loro scaffali a ruote e spinti fuori lasciandosi dietro un odore di latte acido e un silenzio molto gradito uno degli studenti alzò la mano e benché capisse molto bene perché non si poteva permettere alle caste inferiori di sprecare il tempo della comunità coi libri e che c'era sempre il rischio che essi leggessero qualcosa capace di alterare in modo non desiderabile uno dei loro riflessi tuttavia ebbene non riusciva a comprendere la faccenda dei fiori perché darsi tanta pena per rendere psicologicamente impossibile ai delta l'amore dei fiori con pazienza il direttore fornì le spiegazioni se si faceva in modo che i bambini si mettessero a urlare alla semplice vista di una rosa era per le ragioni di alta politica economica non molto tempo prima un secolo giù di lì i gamma i delta e persino gli epsilon venivano condizionati ad amare i fiori i fiori in particolare e l'aperta natura in generale l'intenzione era di far loro desiderare di andare in campagna ogni occasione che si presentasse e perciò di costringerli a far uso di mezzi di trasporto e non facevano uso di questi mezzi chiese lo studente sì e molto rispose il direttore ma non consumavano altro le primule e i paesaggi e gli fece notare hanno un grave difetto sono gratuiti l'amore per natura non fa lavorare le fabbriche si decise di abolire l'amore della natura almeno delle classi inferiori e abolire l'amore della natura ma non la tendenza ad operare i mezzi di trasporto era infatti essenziale che si continuasse ad andare in campagna anche se la si odiava il problema consisteva nel trovare una ragione economicamente migliore della semplice passione per le primule e i paesaggi ed è stata trovata noi condizioniamo le masse ad odiare la campagna concluse il direttore ma contemporaneamente le condizioniamo ad amare ogni genere di sport all'aria aperta nello stesso tempo facciamo sì che tutti gli sport all'aria aperta rendano necessario l'uso di apparati complicati in questo modo si consumano articoli manufatti e si adoperano i mezzi di trasporto ecco la ragione delle scosse elettriche vedo disse lo studente e si tacque verso in ammirazione mi fu un silenzio poi schiarendosi la voce il direttore riprese una volta quando il nostro forda era ancora sulla terra c'era un ragazzetto di nome roben raubovic roben era figlio di genitori di lingua polacca sapete cos'è il polacco credo vero una lingua morta come il francese il tedesco giunse un altro studente facendo soggio della propria cultura e i genitori chiese il direttore seguì un silenzio imbarazzato molti degli studenti arrossirono non avevano ancora imparato a riconoscere la importante ma sottile distinzione che esisteva fra il torpiloquio e la scienza pura uno finalmente ebbe il coraggio di alzare la mano gli esseri umani una volta erano disse esitando gli vennero le fiamme al viso insomma una volta erano vipari e quando i bambini venivano travasati partoriti lo corresse ebbene allora erano i genitori voglio dire non i bambini naturalmente ma gli altri e il povero ragazzo era pieno di confusione insomma concluse il direttore i genitori erano il padre e la madre la parola cruda che era nella vera scienza cadde come un'esplosione nel silenzio imbarazzato degli ragazzi la madre e gli ripete ad alta voce insistendo sulla scienza e appoggiandosi indietro sulla schiena sono disse gravemente fatti sgradevoli lo so ma ad altro canto la maggior parte dei fatti storici sono sgradevoli ritornò al piccolo ruben al piccolo ruben nella cui camera una sera il padre e la madre per distrazione lasciarono in funzione la radio si deve tenere presente che in quei tempi di grossolana riproduzione vipara i bambini erano sempre educati dai genitori e non dai centri statali di condizionamento mentre il fanciullo dormiva l'apparecchio captò improvvisamente il programma trasmesso dalla stazione di londra e la mattina seguente con grande sorpresa dei suoi i ragazzi più arditi a rischiarono un sorrisetto d'intesa fra di loro il piccolo ruben si svegliò ripetendo parola per parola una lunga conferenza di quel curioso antico scrittore george bernard show il quale aveva parlato secondo una tradizione ben fondata intorno al proprio genio al piccolo ruben questa conferenza rimase si capisce perfettamente incomprensibile e immaginando che loro figlio fosse improvvisamente impazzito chiamarono il dottore questi per fortuna sapeva l'inglese riconobbe il discorso per quello che show aveva reato diffuso la sera precedente si rese conto dell'importanza di ciò che era accaduto e su questo argomento inviò una lettera alla stampa medica il principio dell'insegnamento durante il sonno o ipnopedia era stato scoperto il direttore fece una pausa drammatica il principio era stato scoperto ma molti molti anni dovevano passare prima che questo principio potesse avere delle utili applicazioni il caso del piccolo ruben avvenne soltanto 23 anni dopo che il nostro ford ebbe lanciato sul mercato il suo primo modello t qui il direttore tracciò un segno di t all'altezza del proprio stomaco e tutti gli studenti lo imitarono con la massima riverenza tuttavia continuò l'ipnopedia usata per la prima volta ufficialmente per quei primi sperimentatori disse il direttore seguivano una via sbagliata credevano che si potesse fare dell'ipnopedia uno strumento di educazione intellettuale un facciullo addormentato sul fianco destro col braccio destro fuori dalle coperte la mano destra penzolante mollemente dell'orlo del letto attraverso un'apertura circolare nel fianco di una scatola una voce parla dolcemente il nilo il più lungo fiume dell'africa e per tutta lunghezza il secondo di tutti i fiumi della terra benché meno lungo del mississippi missouri il nilo è la testa di tutti i fiumi per la vastità del suo bacino che si stende attraverso 35 gradi di latitudine a colazione la mattina dopo tommy dice qualcuno sai qual è il fiume più lungo dell'africa un ceno negativo del capo ma non ti ricordi di qualcosa che comincia così il nilo è il il nilo è il più lungo fiume dell'africa e per lunghezza il secondo di tutti i fiumi della terra le parole scorgarono fuori benché meno lungo del e dunque qual è il fiume più lungo dell'africa gli occhioni si sbararono stupiti non lo so ma il nilo tommy il nilo è il lungo fiume dell'africa per lunghezza dunque qual è il più lungo fiume tommy tommy scoppia in lacrime non lo so piagnucola furono queste lacrime il direttore lo fece loro chiaramente comprendere che scoraggiarono i primi sperimentatori le esperienze furono abbandonate non si fecero altri tentativi per insegnare ai bambini durante il sonno la lunghezza del nilo è giustamente non si può imparare una scienza finché non si sa di che cosa si tratta se invece avessero soltanto incominciato dall'educazione morale disse il direttore dirigendosi verso la porta educazione morale che non dovrebbe mai nessuna circostanza essere razionale silenzio silenzio ammonì un altoparlante mentre uscivano dall'ascensore al quattro dicesimo piano e silenzio silenzio ripeterono anche a intervalli regolari gli altoparlanti disposti nei corridoi gli studenti e il direttore stesso camminavano automaticamente in punta di piedi essi erano degli alfa naturalmente ma anche gli alfa sono stati ben condizionati silenzio silenzio tutta l'atmosfera del quattro dicesimo piano vibrava di questo imperativo categorico 50 metri percorsi su in punta di piedi li condussero ad una porta che il direttore aprì con cautela passarono la soglia e penetrarono nella penombra di un dormitorio dalle imposte chiuse 80 lettini erano disposti in fila lungo una parete c'era un rumore di respirazione leggera e regolare e un mormorio continuo come di voci sussurranti in lontananza una bambina si alzò a loro entrare e si mise sull'attenti davanti al direttore qual è la lezione di oggi e gli chiese abbiamo avuto la lezione sessuale elementare per i primi 40 minuti essa rispose ma ora siamo passati al corso elementare di coscienza di classe il direttore si avviò lentamente lungo la fila dei lettini rosei ed abbandonati nel sonno 80 bambini e bambini vi erano adagiati e respiravano livemente da ogni guanciale proveniva un sussurro il direttore si arrestò e piegandosi sopra uno dei lettini ascoltò attentamente corso elementare di coscienza di classe avete detto facciamola ripetere un po più forte dall'artoparlante all'estremità della stanza un artoparlante sporgeva dal muro il direttore si avvicinò e girò un interruttore sono vestiti tutti di verde disse una voce dolce ma chiara cominciando a metà di una frase e i bambini delta sono vestiti di cachi no no non voglio giocare con bambini delta e gli epsilon sono ancora peggio sono troppo stupidi per imparare a leggere e scrivere inoltre sono vestiti di nero che è un colore molto brutto sono così contento di essere un beta vi fu una pausa poi la voce riprese i bambini alfa sono vestiti di grigio lavorano molto più di noi perché sono tanto tanto intelligenti sono veramente contento di essere un beta perché non sono costretto a lavorare così duro e poi noi siamo superiori ai gamma e ai delta i gamma sono stupidi e si sono vestiti tutti di verde e i bambini delta sono vestiti di cachi oh no non voglio giocare con i bambini delta e gli epsilon sono ancora peggio sono troppo stupidi per il direttore girò di nuovo l'interruttore e la voce tacque soltanto il suo sottile fantasma continuò a morare sotto gli 80 guanciali se lo sentiranno ripetere ancora 40 50 volte prima di svegliarsi poi di nuovo giovedì ancora sabato 120 volte tre volte alla settimana per 36 mesi dopodiché passeranno a una lezione più avanzata rose scosse elettriche il color cachi dei delta è un'ondata di assafetida legati indissolubilmente prima che il bambino sia capace di parlare ma il condizionamento senza parole rude grossolano non può mettere in rilievo le distinzioni più sottili ma può inculcare i modi di comportamento più complessi per questo sono necessarie le parole ma parole senza ragionamento vale a dire ipnopedia la massima forza moralizzatrice e socializzatrice che sia mai esistita gli studenti lo scrissero nei loro tacquini direttamente dalla fonte il direttore continuò fino a che da ultimo la mente del fanciullo sia queste cose suggerite e la somma di queste cose suggerite sia la mente del fanciullo e non solo la mente del fanciullo anche quella dell'adulto per tutta la vita la mente che si giudica e desidera e e decide costituita da queste cose suggerite ma tutte queste cose suggerite sono suggerimenti nostri suggerimenti dello stato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti